Buongiorno, benvenuti nella segna stampa di oggi, 30 aprile, vi faccio subito una premessa, andate a guardare sul mio sito un pezzo favoloso scritto da Daniele Capezzone sulla ridicolagine del primo maggio, della festa del primo maggio, lo trovate sul sito nicolaporro.it, è un pezzo che non troverete pubblicato su nessun giornale, ma sul sito Nicola Porro, come tutti lunedì, rubrica di Capezzone. Allora vi faccio subito un breve riassunto di quello che succede nella politica, come era facilmente prevedibile, se andate a scorrervi le zuppe delle settimane scorse era talmente chiaro che il PD non poteva stare quello di Renzi col Movimento 5 Stelle che ieri Renzi è andato in televisione e ha detto noi del PD, almeno la sua componente con Di Maio, non può fare alcun accordo se non quello di riscrittura di tutte le regole, anzi questa se volete è un'apertura di credito da parte di Renzi nei confronti del Movimento 5 Stelle che invece le regole non le ha volute scrivere con nessuno, questo dice Renzi. Boccia oggi fa un paio di interviste, la minoranza del Partito Democratico, quella più vicina a Emiliano per intendersi e Boccia dice nelle sue interviste non può parlare a nome di tutto il PD. Oggi molto attiva anche Lucia Annunziata che è sostanzialmente, come possiamo dire, se Travaglio è lo strillone del Movimento 5 Stelle si può dire che Lucia Annunziata è la portavoce della sinistra del PD, dell'establishment del PD che dice Renzi non ha capito nulla dalle sue sconfitte. Io non so che cosa debba capire Renzi se quello che dice l'Annunziata ad esempio su una Vox raccolta dal foglio di oggi per la quale secondo l'Annunziata Renzi deve partecipare a un governo del PD, del Movimento 5 Stelle, fare il governo del Movimento 5 Stelle e ricattarlo durante tutta la sua vita, cioè tenerlo con il Pepe al... insomma avete capito? Insomma se questo è il modo di pensare di un giornalista, di quello che deve avvenire in un paese, beh insomma fantastico. Pane Bianco invece oggi su Quelle della Sera scrive una cosa secondo me molto intelligente, che le consultazioni già che ci sono si dovrebbero farlo con le magistrature e con i vertici amministrativi che sono i veri poteri forti di questo paese senza i quali non si comanda. Potete fare insomma un governo ma se non avete a che fare come si ricordò Berlusconi nel 94 ma non solo lui con le grandi magistrature, le alte magistrature, i dirigenti amministrativi, col cavolo che fate il governo. Fontana dice della Lega, vice segretario sul Corriere della Sera, beh insomma allora torniamo alle urne, mentre invece l'ipotesi lanciata ieri da Berlusconi, cioè di un governo di minoranza guida di Salvini è un'altra delle possibilità di queste ore. Di Maio dice Salvini ha un ego smisurato. Bene io direi che sulla politica possiamo finirla qua. Il caso Fico, presidente della Camera, io non lo considero un caso grave perché sostanzialmente è stato pizzicato dalle Ieni a non pagare i contributi per la sua cameriera e ad aver utilizzato un ucraino per fare dei lavoretti in casa senza pagarlo e senza metterlo in regola. Tra l'altro questo è un clandestino. Nell'un caso dice si tratta di un'amica, nell'altro caso si dice Fico, si tratta di beneficenza. Va bene così, ma siccome viviamo in un paese per cui in questa azienda agricola qua dietro, se mi permetto io che sono parente del proprietario, cioè essendo io figlio del proprietario, a lavorare in questa azienda agricola e come parente non vengo dichiarato all'Inps, rischio di far passare un guaio se lavoro in un campo che forse alcuni di voi dicono meglio che usi le braccia in quella maniera invece che per scrivere. Bene, se vengo pizzicato a fare una cosa di questo tipo, mi fanno un mazzo così, allora mi chiedo e vi chiedo, siamo così sicuri che quello che ha fatto Fico è un peccato veniale? Siamo così sicuri che è un peccato veniale? E soprattutto l'altra cosa straordinaria che trovo, aspettate che spengo qua il telefono. E poi altra cosa che vi chiedo, per quale motivo il giornale dei moralisti, quello che oggi attraverso Travaglio fa, le pulce a tutti i politici che dicono le loro minchiate e che dicono le loro cavolate, oggi non c'è neanche una riga, una riga sul caso di Fico, presidente della Camera, che non paga i contributi e quindi sfrutta i lavoratori e non gli crea una pensione per il suo futuro? Perché non c'è neanche una riga? Ma me la prendo con Fico, me la prendo con i giornalisti, me la prendo con noi che in quel caso non scriviamo neanche una riga. Molto divertente il pezzo della stampa sugli impresentabili del Movimento 5 Stelle, che fine hanno fatto, gli otto che dovevano essere denunciati da Di Maio se non si fossero dimessi dal Parlamento, sono tutti là. Uno di questi, quello che era amico di spada, cioè i mafiosi di Ostia, è addirittura rientrato nel Movimento 5 Stelle, era quello che pagava 7 euro per l'appartamento. Io non ce l'ho col Movimento 5 Stelle, io ce l'ho con i moralisti. Io del Movimento 5 Stelle, di Di Maio, di questi qua, non me ne frega niente, valgono Berlusconi, valgono Renzi, eccetera, ma i moralisti mi fanno venire il sangue e il cervello. Tu non puoi in campagna elettorale fare il fenomeno su Rimborsopoli, fare il fenomeno su Mafia Capitale e poi avere uno che fa gli accordi con un mafioso in Roma Capitale o comunque si vede nei video in Roma Capitale e averlo nelle tue liste, nel tuo Parlamento, perché se no vale tutto, vale pure, non so, avere Rina, vale tutto, vale Di Matteo che si dà un bacio con Rina. Sto esagerando ovviamente, ma avete capito il senso? Questi moralisti sono dei fenomeni. Ovviamente oggi è sempre divertente leggere le storie dei centri sociali che decidono loro la democraticità dei varchi a Venezia. Io non so se sia giusto o sbagliato quello che fa il sindaco di Venezia, l'apertura del gazzettino di Venezia oggi, cioè mettere i varchi all'ingresso dopo il ponte di Calatrava per entrare a Venezia, ma l'idea è che ci siano dei centri sociali che li smontino? Questo è sicuramente sbagliato, non so se è giusto quello che fa Brugnaro, il sindaco è antipaticissimo di Venezia, mi sta sulle balle perché è persona forse più antipatica che io conosca, ma una cosa è certa, quello è il sindaco votato dai veneziani, quelli sono soltanto dei delinquentelli comandati dal nipote di Cacciari, questo Tommaso Cacciari che cosa fa? Prendono e tolgono i varchi che ha deciso il sindaco. Allora cari amici, questo non si può fare in uno stato diritto, non siete voi, cioè rompete le balle sul far west e poi vi fate giustizia da soli e quindi vi occupate i palazzi perché avete deciso che è giusto occuparli, togliete i varchi perché Brugnaro ha sbagliato, fate quello che cavolo vi pare, e no, non funziona così, no? Quelli vengono fotografati e si mettono in prigione, se in questo paese si mettesse qualcuno in prigione si rovina le cose della comunità, no? Una cosa normale, banale, invece questo in Italia non si può né dire né fare, mi sembra questo un altro tema di giornata, come un altro tema di giornata, in questo paese invece non si può fare nulla, il tempo ce lo ricorda, gli internazionali di tennis di Roma avevano previsto di fare un campo da tennis, un serie di campi da tennis a piazza del popolo, che poi erano asportabili, si mette la terra rossa e poi si portano via, era un'idea geniale, era un modo per far vivere una città morta come Roma, la Raggi era d'accordo, erano tutti d'accordo, è come la formula E, cioè rendere Roma, una città eterna, ancora più bella perché la si vive direttamente, era un'idea secondo me straordinaria, sapete qual è il problema che le sovrintendenze hanno detto di no, perché avremmo, e sarebbe stata una cosa troppo, aperte virgolette, chiuse virgolette, impattante, allora se noi ci facciamo comandare anche delle sovrintendenze, voi vi rendete conto com'è un paese schizofrenico, i centri sociali decidono i tornelli a Venezia e li tolgono e le sovrintendenze, nonostante il Comune e il Coni siano d'accordo, non ci permettono di giocare al centro di Roma, siamo un paese morto, perché tra sovrintendenze che non ci fanno fare nulla e centri sociali che non ci fanno fare quello che un sindaco vuole, qua chi è che decide cosa si può fare, caro Giorgio Tocchi, AUG, sei arrivato un po' in ritardo oggi, chi lo fa, chi lo fa, io non lo so, quello che so è che oggi Danilo Taino sul Corriere della Sera, un giornale che sempre con Gaggi e gli altri ha parlato di Donald Trump come se fosse una macchietta, ricorda due o tre cose che Trump ha fatto buone negli ultimi anni in politica estera, negli ultimi mesi in politica estera, a partire dalla Corea del Sud, ma non solo. Direi che per il momento è tutto, che cosa mi sono dimenticato? Poco o niente, lunedì i giornali sono più o meno vuoti, ma leggetevi anche, forse è molto interessante un pezzo sullo scontro per le nuove guide del CSM tra Davigo e Di Matteo, no Carolina, buon primo maggio per me, no, perché io primo maggio lavorerò e penso che sia l'unica cosa che si può fare in un paese senza lavoro come questo. Un grande saluto a tutti quanti voi, se vi piace questa zuppa condividetela e soprattutto sito nicolaporro.it, oggi un pezzo di capezzone che ci spiega quanto è ridicolo per alcuni il primo maggio, a tra pochissimo, ciao.